non so presentiamo la prima serie 50 farfalla maschi in uno Federico Rizzardi piave nuoto in due Ari Jagiz 3 Alex Lorenzon 4 Digital Sun 5 Lucio Massimo Orlandini 6 Gotkeniz 7 Giacomo Salvalego in otto Alessandro Zanin Natatorio Treviso si conclude questa seconda serie 32-11 la giudica Luca Dallabetta dalla terza Corsia grazie a tutti grazie a tutti